bisogna che tutto tu sappia e il cuore che non trema della ben rotonda verità e le opinioni dei mortali in cui non c'è vera certezza orbene io ti dico e tu dopo averlo ascoltato prendi cura del mio discorso quali sole vie di ricerca siano pensabili quella che dice che l'essere è e che non è possibile che non sia e questo è il cammino della persuasione che si accompagna alla verità e quella che dice che non è e che è necessario che non sia e questo io ti dico che è un sentiero inscrutabile né infatti potresti conoscere ciò che non è non è infatti possibile né dirlo lo stesso infatti è pensare e essere